Oh, vedo i piedi, vedo una valigia, eh beh. Che è? Dai, è qua. Mamma mia la dimidezza, oh. Più che una donna, un generatore automatico di personaggi. Virginia Raffaele. Allora, è questa, è questa, è questa, è questa, è la, buona, è lei, è questa. Uff, quella. Sto cercando di capire come fa a muoversi quella valigia e seguirla. Falco, che meraviglia. Io in questo gioco sarei adatta se potessi ridere, ecco, sarebbe proprio il mio. No, non potendo. No! No! Facci di pippo ladro. Ciao Virgi, Virgi, guardami. Virgi, guardami. Cioè, tu già hai nove persone che cercano di farti ridere, poi ti giri e entra Vosamen. Maledizione. Eccoci tornati in diretta alla premiazione, premio non so chi e non so cosa, è vinto da non so. Applauso. Bella. Ma chi sei? Buonasera a tutti, io sono Lunetta Savino. Volevo ringraziare veramente tutti quanti perché è un premio molto importante, come vedete la sofferenza dell'artista. Forrest si sta impazzendo. Ho fatto tanti film, pure, ho lavorato tanto con Ferzan Upset. Sei una brutta persona. Ferzan mi ha preso come un ucce, perché mi ha tirato assù come è vero. Ferzan è stato veramente una brava persona con me. Fa ridere sta cosa, raga. Perché io ho una vena comica. Si vede. Io per esempio so fare... Verate la bottena, mannaggia. Penso a fare queste cose. Ho anche altrimenti... Volevo ringraziare tutti quanti Ferzan, tutti quei che mi hanno fatto lavorare, grazie, veramente. Grazie. Congratulazioni. Non si fa così, eh. Molto pericolosa. Penso a mia nonna. Si ha portato la foto. Ha portato la foto, bastardo. Ah, ma è tenera. È morta? Si, si è morta, è morta. Beh, per forza. Ma in quella foto è morta? No, no, qua era viva. Oh, resti, io qui ho la mia se la vuoi, eh. Tua nonna? Eh, sì. Ma doveva essere una trasmissione comica, invece si sta trasformando in... No, non stanno dire! No. No! Eh, no, eh. Grazie. E andiamo. Alle nonne, sai che piacciono anche le... Diamo un po' di caramelle alla... Alla nonna, ragazzi. No, aveva il diabete! No! Oh, scusa! La nipotina tutto a posto! La nipotina tutto a posto! Nini! Chi mi sta? Chi mi sta? Chi mi sta? Sto bene, amore di nonna! Ragazzi, sente qualcosa, Virginia? Scusate! Entro bene! Prova a spostarti un po', perché non si sente. Ah, che... No, è peggio, è peggio. Entro adesso? Sì, sì, sì. Ado per avere delle informazioni sul programma. Chi... E ci va! Max Angioni! Max Angioni! E c'è? Ma... Angioni! Angioni? E... Azzoe! Virginia, volevo chiederti una cosa. Posso chiederti una cosa, Virginia? Dimmi. Io ho fatto una pubblicità, mi devi consigliare, se va bene o no, è una pubblicità di occhiali. No, a lei ho detto. Poi la faccio vedere che è solo a lei, perché lei ne ha fatte un sacco, così. Una ho fatta. Questa è per gli occhiali, non puoi guardarla, è solo... Dammi un consiglio se... Se... Ah, riso! Non di rovescio! Oh, no! No! È successo! Guardiamo questa munizione. Dammi un consiglio se... No, ma guarda che foto! Nonostante la tempesta di schiaffi... Sei ufficialmente ammonita. Merda! Questa è un'offesa! A dopo! Ma tu ti rendi conto? Bello! 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 Wow, Marina Abramovic! Bello! Bello! Abramovic è tanta roba, eh! Aiuto! Ma io conosco? Marina Abramovic. La Abramivmovic. No. Abramovic. Sono Marina Abramovic! Faccio arte contemporanea. Non tutti possono fare arte contemporanea. Non tutti possono capire arte contemporanea. Tutti, però, possono pagare per vedere arte contemporanea. A noi? Performance? No. Dio, no, c'ho i spicci. No, performance? Non c'ho moneta, mi dispiace. Pezzente. Pezzente. Performance. Where's type performance? Where's type performance? Performance. Questo è gabbiano. Capisco la... Questa è performance. Questa è performance. Cos'è tutto? Questo è tutto. Ci è tutto. Ma no, che brava! Li credo di essermi procurato tipo un crampo agli addominali per resistere. Non resistere. Performance. N'sa no rap. Performance. N'sa no rap. Performance. Ovetto. N'sa no rap. Performance naso. N'sa no rap. Performance, eh, performance. Performance. Eh, anche alitosi, però non scherzo. Fiducia, performance. Viene come... Performance. Che bel momento. Performance. Performance. Come si chiama questo genere di cosa che sta accadendo adesso? Performance. Ah, ok. Dovrebbe dirlo, però. Questa è letale. Questa è l'esibizione del MoMA. L'artista è presente. L'esibizione del MoMA. Super. Se ne è l'esibizione del MoMA. La sbira. La tata è la sbira. La sbira. La tata è un'esibito del MoMA. La tata è la sbira. La sbira. Perfumaz. La sbira. ricordarmi di tutte eravamo io del gino pauli è vero c'era anche il gino c'era anche il gino sul brucco mela ricordi era sul brucco metrati nella mela ha visto il brucco tutti i droghi si e signori è un grande onore per me signori risultati qui stasera i detti primi mondiali a l'holla il più grande urlatore di mambo un applauso grazie io mi so preparata veramente su un sacco di cose l'unica cosa che non sono riuscita a preparare è stata in realtà l'estetista non ho trovato un buco in settimana guarda che meravigliosa questa cosa è meraviglioso però no ma te rendi conto te rendi conto guarda che è orribile guarda guarda che meraviglia guarda che panda anche però posso dire tesoro amore ti vedo veramente così no siediti un attimo bella vai siediti no hai bisogno un po di colori un po di amori ma lo trucchi faccio un po quello che cazzo mi pare uno scusami un po di valore allo sguardo perché tu hai questo occhio bello verde un po si verde allungaglielo faccio faccio quello che cazzo mi pare amore non ti devi interessare sempre però vedo che sei triste amore ma non hai c'hai del problema vuoi parlare con me e saturno e saturno contro amore saturno l'anno scorso saturno stava contro quest'anno è tornato portando degli amici amore e poi che cosa è tutto il lavoro va male la salute va male cosa va male la fidanzata ha lasciato la salute oddio amore mi dispiace perché questa cosa è terribile volete qualcosa da te senti mi prepari per cortesia o margarita già che ci sei questo mi ricorda angioni ciao io sono roberta sono roberta io sono gioppino è molto bello conoscente che cosa fai qui Sto giocando un gioco senza senso Bello Bello Che cosa Bello 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 Federico Buonasera e bentornati Federico Buonasera e bentornati Buonasera e bentornati Bentornati Buonasera e bentornati Buonasera e bentornati A Lolla Te lo ricordi il povero Michele Foresta? È una lingua lunga Bello Larga più che altro Cos'è il panino? Guarda la palletta Sai fare qualsiasi cosa con la lingua Questo qua lo so com'è La gu Mi sembra giusto Guarda che sei terribile con questa cosa Sei molto bravo È terribile Guarda È terribile Sei cappa tonda o cappa tondo Perché non capisco È una cosa meravigliosa questa cosa qua È terribile questa cosa La matita Cazzo uguale Cazzo è bravissime Bello Ha la firma Faccio la firma C'è un vecchietto che attraversa la strada Dice E le macchine si fermano Finita Sì Nonno Sì Diciamo Nonno Nonno Il bambino parla così? Sembra il nonno a me Lo faccio se è confusato Il bambino dice Nonno Nonno Dice Che nonno Nonno Poi viene la nonna e fa. Nonna, nonna, come ne ascono i papiri? Nonna, dovete scopare! Ora, prendi un'altra carta, senza farmela vedere. Guarda, va bene? Ti piace? Tieni, dai, tieni! No, 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 no.